Attenzione, i Taldarim stanno sigillando un altare di Terrasin. Fantastico, i Taldarim stanno sigillando tutti gli altari di Terrasin per impedirci l'accesso. Se continuano così, non potremo raccoglierne abbastanza. Attive notizie. Sì, sì. Spero che ne valga la pena. La sentiamo. O lavorone. Sarà fatto. Via, via, via. Gas Vespenel insufficiente. Tanto paga lei. Eh? Mi hai spaventato? Eh? Sì, SCP pronto. Armato e pronto. S.C.B. pronto! Negativo. Non si può fare. S.C.B. pronto. S.C.B. pronto. S.C.B. pronto. Eh? Bene. Un rai ad operativo. S.C.B. pronto. 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 Sì. Che c'è? Via, via, via. CharaAL! Attenzione, i Taldarin stanno sigillando un altare di Terrasil. Minerali insufficenti. Cattive notizie. Che succede? Dica. Ok. Facciamo le cose per bene, ragazzi. C'è bisogno di me. Ti stavo aspettando. Perché no? Sì, che c'è? Ha intenzione di darmi ordini. Ma io non mi avvivo. Spero che ne valga la pena. Armato è pronto. Minerali insufficenti. Ti stavo aspettando. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Intesi. Ma certo. Potenziamento completato. E cosa fa? La base è sotto attacco. Chi è che vuole prendermi? Armato è pronto. Ci serve una mano qui? Ordini ricercito. Io. Va bene. Signore, la prima bombola è stata sganciata. La porto al centro di comando più vicino. Non vedo l'ora. Ottimo lavoro. Prima bombola riempita. Cattiva notizie. La sentiamo. Mi hai spaventato. Ecco il dottore. Roger. Chi è che vuole prenderle? Facciamo le cose per bene, ragazzi. Armini. Tu lavorò. Armato è pronto. E cosa fatta? Buia! Intensi. La ferma buona. Attenzione. I Taldarin stanno sigillando un altare di terza. Non c'è nulla. Sarà fatto. Ma c'è? Invece. Perché no? Capito. Invece. Invece. Sì, signore. E cosa fatta? Garantito. Affare fatto. Questo è certo. Mi chiedo assistenza. Maledetti Taldarin, ogni altare che chiudono ci rallenta ulteriormente. Devi mandare qualcuno dei tuoi ragazzi a fermarli. Ha intenzione di... Sono pieno da mano. Sono pieno da... Sono pieno da... Maledetti. 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 Ma certo! Perché no? Sicuro, in marcia. Non capito. Certo. Ma no! Ma... mi hai spaventato! Ha intenzione di darmi ordini? Via, via, via! Perché no? Ha?